Mentre sorseggio il tè di nuovo, in questo episodio devo ritornare Do ho finito quello precedente. E quindi parte una cosa che ho sempre sognato di fare nel canale Il riassuntone, un taglio, una parola. Vi chiedete che cos'è? Dove? Qui. Tiè. Tiè. No. Tiè. Parato. Scala. Giù. Sette tè. Culo. Bevo. Giù. Nemici. Culo. No. Troppi. Culo. Culo. Voila. Merda. Corri. Puttana. Arrivato. E adesso posso registrare normalmente. Ma? Cazzo respawna quello lì. Tiè. Vediamo cosa possiamo fare. Ma io pensavo... Pensavo di... Pensavo che fosse tipo unico e quindi non respawnasse. Ma io non voglio combatterlo di nuovo. Sta dormendo? Cosa sta facendo? Sta riposando. Io non lo disturbo. Cammino piano per non far rumore. Porca troia la cassa. Che strana meccanica. Ma è una meccanica o è un bug? Non lo so. Dark Souls 3. Ah, vengo da te allora. Volevo scegliere la strada. Ma visto che rompe tanto i coglioni. Qualcuno dietro. Qualcuno dietro. Qualcuno dietro. Eh sì. Ho trovato armatura del disertore. Oh. Grazie. Questo blocco di metallo arrugginito è adatto a chi si è ridotto a rubare per vivere. Grazie. Grazie. Però chi se ne frega. Siamo fighi. Ho sentito... Eccola. Tocca segno di vocazione. Albert. Il cavaliere del leone. Ma guarda l'armatura. Guarda l'armatura. Aspetta Albert. Anima di cavaliere abbandonato. Va bene. Aspetta un attimo. Va bene. Senti. Io ti evoco vaffanculo. Vieni con me. Social Sandro. Che bello. Eccolo qui. Ciao Albert. Non mi caga. Si è girato. Vediamo se le vocazioni durano tutto il tempo finché non muoiono. O... Vabbè. Tanto vediamo come funzionano. Magari hanno molto meno vita di prima. Uh. Eccoli gli oggetti che vedevo da sotto. Grande anima di cavaliere abbandonato. Eh. No. No. Io però non vado lì adesso. Stai con me Albert. E c'è. Che hai visto? C'è qualcosa qui? Uila. Cosa fai? Perché ti po... Ti pompi... Cosa stai facendo? Albert. Vie qua. Che hai visto qui? Stanza invisibile? No. Qui. Altra scala. Altri cavalieri morti. Cazzo. Il trappolone. Albert. Attento. Bravissimo. Vabbè. Ho fatto tutto io. Ma non importa. Dai. Voglio vederti combattere. Però colpiscilo. Albert. Dove cazzo va? No. No. Eh. Bravissimo. Ma che cazzo di moveset? C'era quell'arma lì? Ah. Eccola qui. Forse abbiamo sbloccato una scorciatoia. Ah no. C'è già l'ascensore. Scusami. Però devi venire con me che ho paura di perderti. Vieni nella sc... No. Albert. Albert. Oggetto. Coltelli da lancio. Buono. E qua siamo nella porta che io spero si apra da questa parte. Yes. Scorciatoia. Sperando che ci sia ancora Albert. A me lo segna ancora. Mi sei mancato. Vieni. Torniamo indietro e andiamo da quella parte qui. Quindi sono contento di aver scoperto una scorciatoia. Tanto fammi vedere la bellezza di questo posto. E... Oh merda. Ho paura che arrivino. Piano. Piano. Albert. Guardalo. Però t'hanno colpito. Io non voglio che ti colpiscano. Ti aiuto io. Minchia. Scusa. T'ho rubato la kill. Scusami. Voilà. Ma sei un campione. Una brace. Piano. 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 Stai tranquillo. Sono morti. Scalinate. Ma qua è enorme. Cazzo. Ok. Andiamo di qua. C'è qualcuno lì. Allora. Aspetta. Partiamo con... Aspetta. 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 Ah. Buona tattica. Mi sta rendendo le cose abbastanza facili, devo dire. Però l'evocazione c'era. Che volete da me? Ha incantato la spada. Bellissimo. Guarda come brilla. È di diamanti? Dai che gli manca niente. Voilà. Perfetto. Bellissimo cavaliere. Poi lo voglio ribattere da solo. Gemma raffinata. Guarda che sembra la faccia di un Evangelion. Lui stava probabilmente contemplando i cadaveri, ma... Oh, scusa. Te li ho rotti. Perdonami. Ipotizzo ci sia un boss qui. Vedo una signora chinata lì. Signora, forse. Cioè, il vestito lungo. Quindi subito dico signora. Sono razzista in quel modo lì. Voilà. Fatto tutto io. Passato una freccia di fuoco. Ah, eccoti qua. Il solito trappolone. Otto dardi normali. Grazie. Scendendo c'è un cancello. E tra l'altro... Oh, un'altra evocazione. Maestro spadaccino. Eh, madonna. Ma così a caso è un NPC? Perché questo sono sicuro sia un NPC, ma quello là, maestro spadaccino. Questi invece sono quelli che si vedevano nel prologo. E lì credo ci sia un boss. Ipotizzo, eh? Quindi un boss qui, un boss lì? Ma visto che vogliamo fare social Sandro, evochiamo anche il maestro spadaccino. Eccolo qua, completamente nudo. Ah, no, aspetta! Ma questo qua è quello che io ho battuto per l'Ucigatana, mi sa. Maestro, mi scusi, le ho rubato l'arma, mi perdoni. Adesso abbiamo la Wombo Combo. Sotto era molto più boss di questo. Io però entro qui e vediamo cosa succede. Vediamo un po' cosa ci dice. Mi ha detto, se vuoi continuare, vai alle mura e dergi questa bandiera. È un dono di addio. È l'emblema di un antico patto. Ah, mi ha dato, mi ha dato praticamente un oggetto che è il patto della via blu. Una pergamena azzurra in pelle di pecora decorata con un antico simbolo lunare. Però non posso equipaggiarlo. Forse al santuario? Ma i due signorini dove sono? Ah, non possono entrare, guardalo lì. Esattamente come il primo e come il secondo Dark Souls, alla gente piace tenersi in forma. E allora andiamo giù, dai. Mi sento parecchio underlivellato per battere un boss in queste condizioni, perché non dico di avere difficoltà contro i nemici normali, ma ogni tanto prendono un sopravvento se non sto attento, quindi concentrazione. Sempre se c'è il boss, non si è ancora attivato niente. Mi sa che è un boss. No, vabbè, mette una paura incredibile. Sono entrati Alberto e... Albert è il maestro. Cozzo! Ok, è fattibile, è fattibile perché ho evocato gente. Mi sento un po' una merda, però se il gioco te lo permette... Il gioco te lo permette, che ci dobbiamo fare? Però devo comunque schivare i suoi colpi, porca puttana. No, Albert! Cazzo! Ho schivato! Merda, mi ha colpito. E mi ha tolto metà vita. Adesso provo a caricare qualche colpo. Ok, lo fa... Credo di averlo fatto, non ho visto. Uh, schivato al pelo. Il maestro è morto? Merda! La musica è incredibile! Ha raschiato contro il muro. Ha fatto le cittile! Mamma mia! L'ha ucciso. L'ha ucciso, ok. Madonna santa! Via di lì, via di lì. È che non vedo bene, come al solito. Colpita. Uccisa! Ok. Ok. Erede del fuoco distrutto. Anima di Vord. Della valle boreale. Oh, cosa fa? Su, giù. E questo è un altro premio per aver battuto il boss. Guarda che bello. Sporgiti dalla rupe e alza la bandiera. Eh, infatti. Eh, infatti. Oddio. Oh, sono tornati! Non ci credo. Ah, sono sempre il servizio taxi. Va bene. Guarda quanta mappa c'è ancora. Porca miseria. Siamo appena all'inizio. Guarda lì che sopra quella torre c'è un arciere. Allora, o è la torre piccola, o è l'arciere gigante. Perché se vedete, quella a destra, in teoria, è la porta da dove... Cosa ha fatto? Ha rotto la barriera del suono. Cos'era quella roba lì? Comunque, la porticina... La porta è quella lì. Lui è tipo alto due piani di quella torre lì. Ho paura. Lo ammetto. Quindi quella era tutta... Starting zone. Tutto tutorial era quello lì. Va bene. Ho anche finito il tè da bere. Ah, oggetto. Grande anima di cavaliere abbandonato. In questo fallo mi ricordo che c'erano due strade. Questa è quella che abbiamo preso noi. Ma da queste parti c'era qualcos'altro. Ma guarda, sembra lo stesso ponte però al contrario. In realtà no. Perché vedi che c'è un cane lì. Non c'è mai stato il cane. Tranquillo. Ci sono anche stradine qua. Scorciatoie, probabilmente. Facciamoci il ponte prima. Cazzo! Mi è arrivato una freccia nel culo! Ti vengo a prendere, pezzo di merda! Ah, guarda, guarda un po'. Stai tranquillo. E vaffanbagno. No, non scendere, non scendere, non scendere che facciamo subito. Ah, più o meno subito. Su sei quelli resistenti. Ah, però il sanguinamento ha fatto effetto. Saliamo su che ci sia un altro fallo magari. Però è troppo vicino. No, qui là! Dovevo... Oddio! Dovevo aspettarmelo. Dovevo aspettarmelo e mi ha tolto tutta la vita. Porca troia, è potentissimo sto coso. Non ve... No, non ve... Vabbè. Io non vedo. Vedo solo texture strecciarsi all'inverosimile. Wow! Che cazzo! Via, 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 devo curarmi. Tanto beccati questa. Non ho capito se l'ho colpito, è morto! Non riesco a capire un cazzo! È morto, è morto. Ok, mi farà cogliere un oggetto. E che cazzo! Poi rimane sempre il problema che mi urla nelle orecchie fortissimo. Fra mesi ti tenete braccia. Eh, almeno ho troppa roba buona. Qui? Gemma grezza! Ah! Ehm... Uh, c'è un macello di sangue qua. E non c'è nulla. Posso scendere giù di qua? Sì, ma precipito e vedo delle texture abbastanza grezze. Ah, quindi qua non c'era un granché. Va bene, allora scendiamo sotto. Sono convinto che manchino degli oggetti e... E dei cancelli da aprire. Però per il re... No, sono... Ah, ok. Ok, eccolo qua. Anello del sacrificio! È merda, bravo che l'hai preso solo adesso. Non perdi nulla la morte, ma l'anello si rompe. Perché è comunque molto, molto utile. 10.000 anime. Direi di usare un bel osso del ritorno e andare all'altare del vincolo. 15. 15.000. Magari ancora un po' di destrezza. Un po' di forza. E dai, vitalità perché sennò veramente si hanno senza. Poi dovrei alzare un po' la fortuna anche. Compro la torcia. Ah, subito accesa. Ok. Vediamo se può fare qualcosa. Ah, la puoi tenere in alto! Ma che bello! Hanno messo un intero tasto per poter fare questa cosa qui. Se è rotto o non mi si spegne? Direi di no.